La prima volta che avevo ho smesso di usare. Mi sentivo forte, sicuro di me. Tutti ne parlavano come qualcosa di impossibile. Io invece ce l'avevo fatto finalmente. Era in grado di controllarmi. Poi quel pensiero. Ti vedo bene. Adesso che non si dà tanto puoi riprovare. Se hai smesso una volta puoi smettere sempre. Avevo imparato a mie spese che smettere non era semplice, che si tentenna e che si ricade. Quando pensi di esserti rialzato, di aver messo da parte la sicurezza, compare la sfiducia. E adesso come pensi di vincere lo stress? Bastiglietta. Ti tiri nuovamente su. Ricominci il cammino della sobrietà. Ma non hai mai messo da parte stress, ansia e quel senso di vuoto. Sei un fallito. Non sei durato niente. Non hai esperienza. Devi. In comunità, con l'aiuto del gruppo e degli psicologi, ho capito che la ricaduta può essere un'occasione di crescita. E via via che imparo dei miei errori. Evito di ripeterli. Il cammino si impreziosisce. Di sostegno e consigli saggi. Non restare da solo. Non chiuderti in te stesso. Parla. Confrontati. Impara di conoscere le tue emozioni. Potrai gestirle meglio. Sviluppano le tue emozioni. Se anche tu stai vivendo un periodo di difficoltà nella tua vita, non temere. Chiedi aiuto. 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 Chiedi. Chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Grazie a tutti.